musica buongiorno a tutti mio nome è Tittimaldi benvenuti in questo nuovo video su ArenaCraft SG questa volta sono solo peccato mi sento molto solo via tutte le persone ho intenzione di provare a fare un SG tutto tranquillo oh mio dio che bello sta restartando proprio uno adesso ovviamente di provare un SG tutto tranquillo volevo anche provare ad aumentare il FOV volevo fare una cosa un po' più stealth mod allora quakepro sto giocando oh mio dio lag perchè laghi non laggare minecraft ti voglio bene tu mi vuoi bene io ti voglio bene ci vogliamo bene dai 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 inizia tra neanche 9 secondi intanto mi scrivono su crit situazione neve adesso te la dico peter intanto c'è peter e blu che stanno venendo in trentino che bello andiamo a sciare domani cioè domani oggi è sabato 27 e domani è il 28 e andiamo a sciare insieme quindi non so quando uscirà questo video sinceramente mi sto portando avanti così perchè adesso i pomeriggi li avrò sempre pieni da allenarmi la mattina vado a sciare con i tecnobrozel quindi 3 2 1 quakepro bitch via 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 Unica chance di sopravvivenza Aia, 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 aia Perché non scatta? Dio caro Sto lag di merda, porca miseria Invece, poco fa Stavo guardando la live di Stepney E ho raggiunto i 10.000 Probabilmente sarà uscito un video sul mio canale In cui c'è la parte in cui stappa via la bottiglia Mamma mia Ok Uno Via Guardalo Ma dai, Cristo Scatta, scatta, scatta Corri Porca miseria Dritto di qua Guardali Guardalo il lag Guardalo il lag Figlio di grande matrigosca nera Ragazzi, guardatelo Questo qua che mi sta dietro E mi tira il lescotti di lag Tanto urla mezza casa mia Ma va benissimo Vai a cagare FDDD Come cavolo ti chiami Senza affesa Ma Vaffanculo Voglio vivere Dai Che sto sentando Di registrare Una partita buona Non so Saltare Vattene Fede Vattene Mamma mia Vattene Mi sta dietro Mi sta dietro Che palle Fuggi 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 Da capogiro Prima o poi Ti banna Il bambino La 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 Ma che palle Che mi sta dietro Tututututututu Tututututu Porco demonio Sta tanto vicino? No, ok Allora, mangiamo una zuppa, controlliamo Ok, via Ok, ora ho full cibo Proviamo le piste, vediamo se c'è Se siamo fortunati troviamo ancora qualche ceste Perché ormai hanno preso tutto E quello stronzo che mi sta dietro Porca miseria Ok, lontani tutti, non c'è nessuno Perfetto Dai Un bavorca miseria Non c'abbiamo più un cazzo Nel cargo Vediamo se nel cargo troviamo qualcosa Dai Ok vai vai qualcosa Un po' di armor Altro cibo Lì ce ne sono due Si avvicinano malamente Eh cazzo Ma dai Che palle Sono morto Cane Biscotti Dai cibo Solo cibo trovo Nient'altro Mamma mia Grazie al ragazzo Che mi ha donato un ender pearl Li voglio bene Oh Cristo Sono morto Ciao Ma dai Gesù Cristo Facciamo un test Mettiamo sofisticato Tanto Ormai è una partita In cui ho perso Già due volte Lago e basta Tizio mi saluti Ti saluto Ciao ragazzo Dal nome che ho perso Dov'è Ah Turlix Ciao Turlix Ciao XX The best 99 XX Vi saluto tutti Dai dai Iscrivete Non ve lo dico Che sto arcando Sono una persona De merda Le so C'ho notifiche Su youtube Allora Corriamo dritti Ma vai a cagare Dai mi punti subito Mi stanno già Targettando Ah no 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 Facciamo team 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 Ok Ok Ho trovato due Che fanno team Basta Io non posso vincere Se non faccio team Perché sono troppo scarso Guarda come lagga Guarda come lagga Anche il cibo lagga Guarda Guardami Dammi tutto il cibo Voglio spade Aia Mamma mia Se non facevo team Mi avrebbero ucciso Perché mi donate le frecce Non ho più chiesto nulla Allora Vediamo Vediamo Oh due tipi Bella zio Ok Mamma mia Se vi faccio male Mamma mia Se vi faccio male Davvero Perché vado così piano Sto andando piano Quelli si arano Sì Non si vogliono bene Ciao madre Via Oh Ciao bros Ciao Ti aro male Mamma mia Vieni in TS No sto registrando Ma non lo saprete mai Allora Siamo in 11 Di cui 4 Sono in team Tra virgolette In team Perché dopo Tanto gli faccio male Allora Prendiamo un po' di roba Andiamo su Allo spawn Che di sicuro C'è qualche figlio Di Fiodena Allora Dove state Peccoli amici Dei cicciottelli Mai giocare con Il fove Fa schifo Il fove Lezzo Già il lag Che è preoccupante Ehi Ciao chest Ciao tizio Ciao tizio Ehm Ehm Scarso Abbastanza Troppo Troppo Scarso Ragazzi Dovete darmi Dei consigli Perché io Non riesco a vincere Un SG Normale Perché mi ammazzano Subito Allora Andiamo qua sotto E uccidiamo Chi ci sia Qua sotto Tizio Tizio Bastardo Hai cercato Di ammazzarmi Ti ho visto Prima con l'accetta Chi è? Super qualcosa Ciao super qualcosa Ciao super ping Cosa hai? Fammi vedere Porca trota Porca trota Rega Ma vai a cagare Mi ha ucciso È una freccia Ma vai a cagare Ah scusa Hai dito Ah scusa Basta Basta Boh Rega Spero che questo video Vi sia piaciuto Sono stati I 18 minuti Più brutti Della mia vita Registrati In realtà Per voi saranno 5 Se va bene Spero che il video Vi sia piaciuto Non vi è piaciuto Perché ho fatto schifo E Datemi dei consigli Ditemi cosa fare Io Chiedo Consigli Ai signori Tecnobroads Mentre saremo In funivia Registrando Le nostre cazzate Aiutatemi Aiutate un po Brutizio Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bye.